È stato un momento piacevole, ne sono convinto, per tutti gli abitanti di Amatrice. Infatti Carlo Cracco, i fratelli Maurizio e Sandro Serva sono stati i protagonisti nella serata di oggi o di ieri, ora non so bene, della cena di beneficenza che si è tenuto, si tiene, sul centro professionale alberghiero di Amatrice a Vieti e realizzata insieme agli studenti nel quarto anno sperimentale del corso di sala e di cucina. La cena gourmet si è conclusa con l'iniziativa Fare Formazione, realizzata non grazie a chissà chi o a chissà che cosa, ma grazie a fondi raccolti in occasione di 7 Chef per Amatrice lo scorso 7 ottobre nella capitale d'Italia, Roma. Evento di piena solidarietà aperto a chiunque, grazie al quale sono stati raccolti la bellezza di ben 10.000 euro grazie a fondi raccolti, alla disponibilità degli Chef, quindi dei cuo, degli studenti, dell'istituto alberghiero di Amatrice. Hanno avuto quindi la possibilità di prendere parte, assistere a lezioni teoriche e anche però di tipo, chiamiamolo, pratico, che i più grandi, le più grandi firme della cucina italiana hanno voluto giustamente tenere in atto. Beh, complimenti dunque al buon Carlo Cracco e ai fratelli Serba per questa iniziativa che io reputo importante, buona, efficace e genuina. Un salutone, iscrivetevi al prossimo video della Natura Italiana.